buonasera agli amici della passione per il delitto e buonasera a martin rua che è qui con noi questa sera napoletano saggista scrittore e autore dei cacciatore di tarante edito da rizzoli puoi farcelo vedere martin perfetto grazie non è naturalmente il tuo primo libro tu hai già nel tuo fornito carnet di scrittore la trilogia che ha come protagonista lorenzo d'aragona e nella saga profezie puoi raccontarci com'è da cosa dove nasce lo spunto del cacciatore di tarante buonasera intanto a tutti e grazie per l'invito dunque nasce dalla passione per due cose una per un luogo geografico che il salento e l'altra per gli studi antropologici etnologici di ernesto de martino sul mondo magico del sud in particolare su quel fenomeno affascinante che il tarantismo ho voluto unire le due cose ovviamente il salento è terra delle lezione del sala del tarantismo e nel farlo ho ideato questo questa storia ambientata nel 1870 in un momento storico in cui il tarantismo esisteva ancora ma si avviava un po al suo tramonto tu dai da studioso dai per scontato che noi conosciamo bene il tarantismo ci vuoi raccontare che cos'è dunque il tarantismo è un fenomeno che affonda le sue radici abbastanza lontano nel tempo noi lo conosciamo essenzialmente per gli studi dell'antropologo napoletano ernesto de martino in particolare con quel libro meraviglioso che che scrisse nel 50 dopo il 59 dopo la sua spedizione in salento e pubblicato un poco dopo e che è la terra del rimorso che il tarantismo diciamo è più che altro è proprio un sistema di pensiero che nasce in in un mondo quasi esclusivamente contadino e che prevedeva che le persone che soffrissero di una sorta di crisi depressiva fossero curate con dei balli e dei dei delle musiche dei canti quindi un con una sorta di esorcismo musicale queste persone accusavano malori in seguito in particolare a giornate trascorse in mezzo ai campi ma loro che loro imputavano a morsi di ragni o di serpenti e che ritenevano di dover curare appunto attraverso una sorta di esorcismo musicale quindi intervenivano delle orchestrine si ballava quella che poi è diventata la pizzica il ballo tipico salentino e attraverso questo si curavano queste queste forme essenzialmente forme depressive questo è questo è la realtà di questo mondo ovviamente era un mondo assai assai duro in particolare per le donne ma non solo e quindi questo questa sorta di sistema simbolico del tarantismo li aiutava a fronteggiare una vita di stenti ora senza svelarci troppo perché si tratta di un thriller qual è il mistero che si trova ad affrontare giovanni dell'olmo che è uno dei protagonisti di il cacciatore di tarante allora il nucleo principale ruota attorno a una serie di morti strane che avvengono appunto in salento in una grande proprietà di un proprietario terriero in una cittadina immaginaria da me appunto inventata a riadne sono queste braccianti che muoiono misteriosamente in mezzo ai campi tra gli olivi meravigliosi di questa zona del salento che nei dintorni di nardò e sono morti talmente strane che a un certo punto a indagare su di esse viene chiamato questo ispettore torinese un personaggio abbastanza odioso razzista e borioso e scostante viene chiamato perché un po è molto bravo un po diciamo deve essere punito per una serie di mancanze nella sua torino e viene spedito appunto nel sud italia un sud italia che per lui è un luogo geografico abbastanza inquietante alle ea lui viene affiancato questo esperto tossicologo napoletano che è il duca caracciolo de sangro come appunto non solo esperto di ragni e serpenti ma anche della zona dove sono avvenuti questi delitti perché lui è per metà salentino quindi conosce un po un po quella zona i due sono assolutamente improbabili messi insieme una sorta di sherlock holmes e watson che si odiano perché l'uno odia l'altro per motivi politici non dimentichiamo che siamo nel 1870 passata da una decina d'anni l'unità d'italia ma i suoi strascichi sono ancora molto vivi e quindi due all'inizio si odiano poi sono costretti a collaborare perché devono portare a casa il risultato devono risolvere l'enigma ecco non svegliamo troppo perché essendo un thriller questa cosa potrebbe essere preoccupante se diciamo tutto troppo non va bene tu di te stesso dici scrivo per dar voce ai miei rumori fuori scena e cosa significa questa è una frase che si riferisce a un'epoca in cui mi dilettavo anche come cantante e compositore di canzoni pop rock avevo avevo un gruppo tutti amici qui di napoli in questo gruppo c'era anche mio fratello che è chitarrista e avevamo scelto come nome in inglese nois is off che vuol dire rumori fuori scena il titolo di una commedia inglese in michael frine molto carina in cui ci sono c'è questa compagnia di attori che mettono in scena un'opera ma contemporaneamente dietro le quinte avvengono una serie di incidenti e quindi la situazione diventa assolutamente divertente e noi scegliamo questo nome rumori fuori scena come a voler sottolineare che non è solo quella quello che si vede nella superficie che conta ma anche i rumori dietro no quello che quello che abbiamo alle nostre spalle dietro le quinte che forse va interpretato meglio di quanto non facciamo e quindi diciamo questa cosa la continua a fare possibilmente una cosa che c'è dietro le quinte dei tue romanzi che ti appassiona molto è l'esoterismo volevo chiederti due cose uno come nasce questa passione per questa parte così misteriosa e così coincidente in parte con la nostra natura e dall'altra parte se ti sta stretto il paragone che viene fatto spesso quando si parla di thriller e di mistero con dan brown insomma come si vivono le attese in queste circostanze per quanto riguarda l'esoterismo diciamo è ormai da tantissimo tempo che mi ha appassionato questo aspetto della conoscenza ecco così possiamo definire l'esoterismo esoterismo non è altro che il lato nascosto della conoscenza nulla di diabolico o oscuro come si come ancora oggi si pensa ma è quella quel lato della conoscenza che necessita una sorta di iniziazione per essere indagato perché ha dei parametri e dei degli strumenti e degli strumenti e degli strumenti senti ti sento ci abbiamo avuto parlando di esoterismo e dicevo è un ha bisogno di strumenti e di particolare di un particolare approccio che magari la conoscenza tra virgolette standard non richiede e da tanto tempo che mi occupo di queste cose in particolare mi affascina l'alchimia e lo studio dell'alchimia ma anche lo studio dei simboli che riguardano il mondo dell'esoterismo e il paragone con den brown viva dio è una cosa che sarebbe meravigliosa se io potessi competere o in qualche modo avere il successo planetario di den brown ma devo dire all'inizio ho anche un po cercato di calcare certi temi che lui aveva affrontato nei suoi primissimi romanzi non in imitazione ma in ispirazione perché per esempio nei primissimi romanzi c'erano delle caratteristiche che troviamo un po per esempio nel corrigio da vinci o in angeli e demoni ma che io ho calato in una realtà molto più nostra quindi il mio primissimo protagonista era un antiquario napoletano esperto di esoterismo che aveva a che fare con cose con aspetti diciamo dell'esoterismo anche campano anche napoletano quindi qualcosa di più vicino a noi non diciamo lontano come potrebbe essere può essere può capitare nei romanzi di den brown non è un paragone che mi diciamo offende assolutamente ci mancherebbe sebbene non tutto quello che abbia fatto che ha fatto den brown sia per quanto mi riguarda particolarmente appetibile però diciamo ci sono delle dinamiche interessanti soprattutto c'è un ritmo nei suoi romanzi che è indubbiamente accattivante però diciamo negli anni mi sono un po allontanato e ho orientato le mie ispirazioni su altri generi e su altri autori senti il cacciatore di tarante è uscito nel 2020 c'è un progetto nuovo a cui stai lavorando ci sono più progetti c'è un romanzo che ho già completato ed è l'ho scritto in visione e Rizzoli lo sta esaminando grazie grazie